Raffaele Revisore Arriviamo al secondo relatore di oggi che ci parla di un problema che è tutto all'interno della nostra specie. In un suo libro di una decina di anni fa scriveva La parola razza è tornata di moda. Mi viene da dire che dopo più di dieci anni non è mai uscita dalla moda nel senso che oggi basta aprire un qualsiasi giornale per vedere di nuovo, vedere sempre, il razzismo che di fatto dilaga con tutti i discorsi di migrazioni, migranti che comunque occupano l'attualità. Quindi la parola razza è tornata di moda. Forse non è mai uscita, non è mai passata di moda però cerchiamo di capire di nuovo con un approccio scientifico, con un piglio da anatomisti delle bufale come vedremo domani, non mi ricordo quando era Silvia Bencivelli se oggi è domani, comunque insomma quando vedremo nella sua conferenza quindi con un piglio molto scientifico cerchiamo di capire che cosa c'è dietro cosa c'è di vero intanto, se c'è qualcosa di vero e che cosa c'è dietro a questi discorsi intorno alle razze lo facciamo con la persona che in Italia ha scritto di più di questi temi se ne occupa per mestiere, è un genetista insegna all'università di Ferrara ha scritto tantissimi libri l'ultimo è stato finalista al prestigioso premio Galileo e oggi è qui a raccontarci perché non possiamo non dirci africani Guido Barbujani Buonasera in una sua poesia, anzi in epigrafe alla sua poesia Germania Bertolt Brecht scrive parlino gli altri della loro vergogna, io parlo della mia e dovendo parlare delle vergogne italiane insomma come sapete c'è ampia possibilità di scelta ma siamo al CICAP e quindi ho pensato di partire dal principale contributo italiano del novecento alla pseudoscienza la scienza della razza che riassume i suoi risultati in un famoso documento eccolo qua che si chiama il manifesto, il decalogo degli scienziati razzisti nel 1938 il regime fascista decide di pubblicare una rivista che si chiama la difesa della razza che contribuirà a creare il clima sociale in cui diventeranno accettabili dalla maggior parte della popolazione italiana le cosiddette leggi razziali che privano di ogni diritto civile come sapete i cittadini italiani di razza ebrea questo decalogo ve lo dico subito dal punto di vista scientifico è un prodotto scadente e magari voi potreste chiedermi ma perché perdiamo del tempo a parlare di scienza scadente parliamo di buona scienza ve ne parlo e parto da qui perché gli ostacoli contro cui si scontrano e che non riescono a superare gli scadenti scienziati del manifesto della razza sono gli stessi ostacoli contro cui si sono scontrati senza riuscire a risolverli i bravi e bravissimi scienziati che dal settecento in poi si sono occupati di scrivere il catalogo delle razze umane insisto su il perché se stiamo parlando di scienza come sapete un requisito fondamentale è appunto la ripetibilità dei risultati quindi se ci sono le razze se le razze sono una cosa biologica deve esserci un unico catalogo delle razze umane che tutti gli scienziati riconoscono allo stesso modo questo decalogo se dal punto di vista scientifico non è granché anzi è una produzione scadente dal punto di vista della comunicazione invece è scritto molto bene questa gente sapeva comunicare c'è un breve slogan che io ho riassunto ho copiato per voi qua di sotto accompagnato da qualche riga di spiegazione molto molto efficace e allora proviamo a guardarlo insieme ci si dice prima di tutto che le razze umane esistono nel 38 non era uno scandalo lo pensavano quasi tutti ma si dice una cosa in più si dice che il concetto di razza punto numero 3 è un concetto puramente biologico quindi razza è qualcosa che dicevano loro abbiamo nel sangue oggi diremo ce l'abbiamo nel DNA lo riceviamo dai genitori lo trasmettiamo ai figli e non c'è niente che possiamo fare a questo proposito non è uno stato d'animo non è un atteggiamento culturale se è un concetto puramente biologico se la razza sta nel DNA allora perlomeno è suscettibile di essere studiata con i criteri della scienza che sono appunto quelli della ripetibilità e qui come vedrete casca l'asino perché al punto numero 4 si dice che noi italiani siamo ariani ariano è una parola che è mutuata dalla linguistica vuol dire di lingua indoeuropea quindi sono ariani quasi tutti gli europei non però gli ungheresi non però i baschi e i finlandesi e poi lo sono gli iraniani Iran e ariano sono la stessa parola la stessa etimologia afghani, pakistani e le popolazioni del nord dell'India fino al Bengala siamo tanti ma al punto numero 6 siamo diventati una pura razza italiana e allora siamo italiani o siamo ariani siamo pochi o siamo tanti punto numero 8 siamo diventati mediterranei dell'Europa occidentale quindi non siamo più come i greci non siamo come i portoghesi che come sapete non si affacciano sul Mediterraneo però siamo come gli spagnoli e al punto numero 10 siamo diventati puramente europei quindi dentro tutti anche i finlandesi e i baschi e fuori quelli che non sono europei un pasticcio un grande pasticcio perché degli scienziati che all'epoca erano i più famosi del paese antropologi, fisiologi, anatomisti firmano un documento così scadente con quattro affermazioni ognuna delle quali contraddice le altre tre secondo me la risposta è qui è scritta qui al punto 7 è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti ma questa non è una dichiarazione scientifica è una direttiva politica è un'altra cosa la scienza si mescola con qualcos'altro diventa ancella della politica per delle finalità che sono benissimo illustrate da questa bella copertina forse l'avete vista senz'altro un gladio romano che separa una statua classica forse sono gli ariani forse sono gli italiani non si sa siamo noi da quelli che non devono contaminarli l'ebreo e l'africano ora io non so cosa pensiate della proposta politica riassunta da questa bella illustrazione mi auguro che come me ne pensiate tutto il male possibile ma io sono qui per dirvi che dal punto di vista biologico questa proposta è intempestiva e impraticabile perché nel 38 era troppo tardi per separare come qualcuno vorrebbe fare anche oggi gli europei dagli immigrati per l'ottimo motivo a cui ha accennato anche Giorgio Manzi prima che nel 38 gli europei non c'erano più non c'erano più da una trentina di migliaia di anni perché gli europei non siamo noi gli europei sono questi signori col cranio oblungo qui a destra con questo forte processo sopraorbitario senza mento ieri chi ha sentito lo spettacolo di Telmo Pievani si ricorderà che si parlava appunto del senso di questo mento questi erano gli europei erano gli neandertaliani che hanno occupato l'Europa per 300.000 anni e ce l'hanno lasciata soltanto 30.000 anni fa o forse un po' di più vero Giorgio adesso le date sono un po' cambiate anzi io direi che per capirci meglio conviene risalire intorno a 100.000 anni fa e 100.000 anni fa c'erano tante forme umane non capisco queste frecce ma perdonatemi l'illustrazione è stata un po' modificata riformattata 100.000 anni fa gli europei scusate l'uomo stava qua quelli fatti come noi e gli europei erano i neandertaliani che occupavano buona parte dell'Europa e oggi sappiamo anche una parte dell'Asia più grande di quella che non si pensasse all'inizio qui c'era una specie misteriosissima i Denisovani di cui conosciamo soltanto questa falangetta e due denti non sto a raccontarvela sarebbe una storia molto interessante ma in Asia ci stava Homo erectus e anche questa piccola specie Homo florestiensis molte forme umane diverse oggi ci siamo solo noi e 100.000 anni fa eravamo tutti in Africa quindi questo è il primo elemento che ci consente di dirvi che effettivamente non possiamo non dirci africani non possiamo non dirci africani siamo rimasti soltanto noi abbiamo occupato tutto il pianeta e la domanda è quanto siamo diversi fra di noi ecco a questa domanda fin dal 700 si è risposto cercando di elencare quali siano le razze umane ci hanno provato alcuni dei più grandi naturalisti dell'epoca a partire dall'inneo che propone quattro razze umane Blumenbach un medico tedesco ne propone cinque Chuvier il padre dell'anatomia comparata ne propone tre ci prova anche Immanuel Kant un po' da dilettante propone che ci siano quattro razze umane che però non sono le stesse di Linneo perché questo? ma perché è abbastanza facile guardando le facce delle persone stabilire che ci sono dei tipi diversi e io non sto a chiedervi da quale continente provengano questi cinque individui perché l'avete capito tutti quanti e proprio così beh dipende dalle persone che scegliamo se per esempio vi faccio vedere questa illustrazione beh qui le cose sono un po' più complesse guardate la persona con la pelle più scura di tutti in alto a sinistra è una ragazza asiatica viene dalle isole Andamane questa signora dall'area molto europea i melomani la riconosceranno è Kiri Tekanawa è la famosa mezzo soprano Maori neozelandese e viene dall'oceania come viene dall'oceania quella signora con la pelle molto scura in alto a destra mentre questo ragazzo che tanto scuro non è è l'unico che viene dall'Africa qui in mezzo quindi dipende molto dalle persone che scegliamo l'idea che ci siano alcuni tipi umani fondamentali che possiamo con sicurezza attribuire a un continente non è fondata ed è per questo che man mano il tempo trascorre man mano il tempo va avanti le razze aumentano nuovi viaggiatori viaggiano gli esploratori esplorano tornano a casa descrivendo popolazioni umane che non si riesce a inserire nei cataloghi razziali preesistenti e quindi i cataloghi si allungano qui ne avete 27 in questa mappa della metà dell'Ottocento nel 1933 a Chicago fanno l'Expo come a Milano lo scorso anno e una scultrice di New York Malvina Hoffman viene incaricata di produrre per la sala delle razze del museo delle riproduzioni a grandezza naturale le vedete qui delle principali razze umane Malvina Hoffman produce 103 statue diverse 103 razze nel 1900 si arriva a cataloghi con 200 razze differenti è quasi come dire che non ci si capisce più niente infatti qualcuno comincia a protestare chi lo fa nel modo più chiaro secondo me è questo antropologo americano si chiamava Frank Livingston che scrive nel 1962 un articolo che si chiama sulla non esistenza delle razze umane e Livingston dice attenzione non sto dicendo che non ci sono differenze ma perché ci siano le razze non basta essere differenti bisogna che ogni regione geografica corrisponda un gruppo omogeneo di individui che sono simili fra di loro e diversi da quelli di altre regioni geografiche lui dice io non vedo nell'umanità i pacchetti distinti chiamati razze e il pacchetto è la cosa dentro cui sta il telefonino che state comprando se fuori c'è scritto Nokia dentro c'è un telefonino Nokia se fuori c'è scritto Toshiba dentro c'è un telefonino Toshiba non ci sono sfumature Livingston dice questo non è il modo di considerare di capire la biodiversità umana io sostengo che non ci sono razze ma ci sono soltanto sfumature una proposta radicale una proposta che incontra anche obiezioni da parte di scienziati seri uno di questi è un evoluzionista americano un genetista americano Theodosius Dobjansky che pubblica un libro che si chiama Diversità genetica e uguaglianza umana in cui lui ammette prima di tutto che quando stiamo parlando di queste cose un po' parliamo di scienza e un po' no e lui dice che i nostri comuni diritti civili non ci derivano dal fatto di essere tutti uguali ma dal fatto di essere tutti umani dopodiché Livingston dice è vero la scienza non è ancora riuscita a definire una volta per tutte quali siano le razze umane ma io ho fiducia che i futuri sviluppi tecnologici ci permetteranno di farlo ebbene la buona notizia è che noi viviamo nel futuro e questi sviluppi tecnologici come prevedeva Dobjansky ci sono stati e quindi possiamo dire qualcosa di più preciso grazie a questa molecola la conoscete tutti è inutile che ve la presenti è il DNA che oggi riusciamo a studiare a dei livelli fino a dieci anni fa difficilmente concepibili spesso per descrivere il DNA si utilizza la metafora del testo è un grandissimo testo di cui conosciamo l'alfabeto le quattro basi che indichiamo con le lettere A, C, T e G di cui comprendiamo la grammatica perché i nostri ventimila geni sappiamo abbastanza bene che cosa fanno tutti quanti e di cui ignoriamo però la sintassi appena una malattia appena una caratteristica per esempio il nostro girovita per esempio la nostra statura comincia a dipendere non da un singolo gene ma da 20-30 o da tanti geni e tanti fattori ambientali non ci capiamo più niente ma è un testo che pur senza comprenderlo riusciamo a leggere interamente ed è un testo in ciascuna nostra cellula costituito da 6 miliardi e mezzo di caratteri vedo qualcuno che fa sì con la testa però secondo me non avete ancora capito di che cosa sto parlando e allora piccolo esempio secondo la mia stima i promessi sposi contengono circa un milione di caratteri questo significa che il libretto di istruzioni il DNA contenuto in ciascuna delle nostre cellule è l'equivalente di una biblioteca in cui ci sono 6500 volumi ciascuno grande come i promessi sposi come faccia la cellula a trovare nel giro di minuti o secondi la riga giusta in cui leggere le istruzioni mi piacerebbe davvero saperlo non lo so non lo sa nessuno ma questo testo adesso viene letto completamente ed è stato letto in migliaia di individui quindi alcune cose le sappiamo e la prima cosa che possiamo dire è che anche due individui molto diversi fra di loro come questi due condividono il 99,9% del loro DNA delle A, C, T e G nel loro DNA per i gorilla non è così per gli scimpanzè non è così le differenze sono più forti attenzione però che uno per mille di 6 miliardi diviso due bisogna dividere per due fa sempre 3 milioni di possibili differenze quindi le nostre differenze sono piccole in percentuale però ci sono 3 milioni di possibilità per ciascuno di noi di differire dagli altri ecco ma come sono queste differenze se mettiamo insieme gente di 3 continenti diversi queste sono le razze di QV per semplicità l'80% delle varianti del nostro DNA cioè le varianti sono quell'uno per mille che dicevamo prima bene di questo uno per mille l'80% delle varianti sono cosmopolite presenti in tutti i continenti io sono di gruppo sanguigno zero come penso molti di voi il gruppo sanguigno zero è cosmopolita se di una persona sapete che è di gruppo zero voi non avete idea di quale sia il continente di provenienza se invece uno è di gruppo sanguigno B allora almeno non è un indigeno dell'oceania non è un indigeno delle americhe bene le caratteristiche come il gruppo zero sono oltre l'80% essere europei o asiatici geneticamente è praticamente impossibile vedete ci sono dei numeri molto molto piccoli invece c'è un 7% di varianti del nostro DNA che sono esclusivamente africane quindi anche in questo l'Africa è un continente speciale è evidentemente una traccia delle nostre origini africane io riassumerei questa immagine dicendo che sostanzialmente si può far parte di due categorie biologiche o abbiamo caratteristiche tipicamente africane o abbiamo caratteristiche genericamente umane una delle conseguenze di questa cosa la si vede leggendo dei genomi completi attenzione vi presento un caso limite un caso estremo e serve a illustrare il fatto che siamo molto molto diversi due delle prime persone a cui è stato studiato il DNA nella sua interezza sono in basso Jim Watson lo scopritore della struttura la doppielica del DNA e Craig Venter che è un altro genetista americano molto molto famoso qualche tempo dopo un coreano che si chiama Kim peraltro tutti i coreani si chiamano Kim quindi non so bene perché ve l'ho detta sta cosa ha pubblicato il proprio DNA e l'ha confrontato con quello degli altri ora quello che salta fuori qui è stato letto tutto il DNA non dei pezzetti come si faceva un tempo confrontando questi DNA salta fuori che Watson e Venter sono entrambi americani di origine europea e si vede Kim è asiatico e si vede ma Watson e Venter hanno in comune meno caratteristiche del DNA di quante ciascuno ne abbia con Kim quindi volendoli mettere insieme la cosa più probabile è Watson con Kim a esclusione di Venter la seconda più probabile è Kim con Venter a esclusione di Watson la cosa meno probabile di tutte è che i due europei finiscano insieme non è un caso tipico ma l'esistenza di questi casi dimostra ancora una volta che il concetto di razza non ci permette di raggruppare insieme degli individui biologicamente simili tenendoli separati da altri che biologicamente sono diversi da loro ed effettivamente da quando si è abbandonato il concetto di razza da quando abbiamo capito questo è uno studio di una artista brasiliana che a me piace molto che fotografa persone diverse su uno sfondo di un colore che corrisponde a quello della loro pelle e poi ci mette sotto l'indicazione tecnica della tinta che gli imbianchini usano per riprodurre quel colore come Angelica Das ha capito c'è un numero molto vasto di sfumature tracciare delle linee tra un gruppo e l'altro è arbitrario e non si arriva da nessuna parte da quando abbiamo abbandonato questo concetto nella scienza naturalmente perché nella società non è stato abbandonato abbiamo capito tante cose del nostro passato e abbiamo ricostruito qui non si vede veramente niente fidatevi vi dico io cosa c'è lì dentro abbiamo ricostruito una mappa delle nostre migrazioni che ci ha permesso di capire un sacco di cose che prima non capivamo negli ultimi due minuti di questa chiacchierata vi racconto tutta la storia dell'umanità voi direte sei un pazzo ma in realtà no la scienza si serve di modelli quando deve parlare di cose troppo complicate troppo difficili addirittura da pensare e quindi questo è un modello sintetico secondo me di quello che può essere successo si comincia 100.000 anni fa e quei pallini lì sono i nostri antenati a differenza di Giorgio Manzi io non credo che portiamo nel nostro DNA tutti noi tracce di Neandertal ma anche se ha ragione lui e ha torto io le tracce sono minime quindi i nostri antenati stavano lì quelli che stavano in Europa hanno avuto un'altra storia questi nostri antenati non se la passavano molto bene dovevano continuamente spostarsi per cercare il cibo per sfuggire ai pericoli e girando intorno a 70.000 anni fa vedete che sono arrivati a occupare un'area più ampia e sono aumentati i colori perché c'è un processo naturale di mutazione che genera continuamente nuova diversità genetica e come vedete c'è qualcuno che è arrivato vicino all'Istmosisue naturalmente non sa di essere lì e l'ho indicato con dei pallini arancioni e gialli questi sono quelli che intorno a 60.000 anni fa escono dall'Africa e lì l'ambiente è molto più favorevole quasi disabitato ci sono i Neandertal ma erano brave persone e ce ne liberiamo molto rapidamente e qui succede una cosa che Charles Darwin che non sapeva nulla del DNA che conosceva soltanto un fossile importante aveva già intuito perché era intelligentissimo quando c'è un ambiente che permette ai bambini di arrivare più facilmente all'età della riproduzione e ai vecchi di vivere più a lungo la popolazione aumenta di numero ma la popolazione che aumenta di numero non è tutta la popolazione africana sono quei pallini arancioni e gialli che hanno avuto la fortuna di beccare la via d'uscita attraverso la Palestina e quindi 10.000 anni fa quando tutto il vecchio mondo ormai è popolato vedete che quasi tutta l'Europa e l'Asia sono coperti da pallini gialli e arancioni più qualche pallino di colore diverso perché le mutazioni continuano ad accadere mentre in Africa c'è un campionario completo della diversità umana che comprende sia i colori extraafricani che altri colori che fuori dall'Africa non ci sono naturalmente sono successe molte più cose ma se questo quadro se questo modello non è troppo lontano dalla realtà bene o male questo ci spiega i risultati che vi ho presentato e altri che non ho fatto in tempo a presentarvi concludo col più bravo di tutti lo sapete nell'origine delle specie Darwin scrive la cosa che Giorgio Manzi vi ha citato prima una sola frase piuttosto sibillina ma torna al tema delle razze in un suo libro del 1871 e dopo aver elencato le incongruenze tra i vari cataloghi razziali lui dice ve lo traduco in italiano ogni naturalista che ha avuto la sfortuna di descrivere un gruppo di organismi molto variabili ha incontrato casi parlo per esperienza esattamente come quelli dell'uomo e se è di disposizione cauta se non spara delle sciocchezze finirà per unire tutte le forme che sfumano una nell'altra sfumano lo diceva Livingston in una singola specie perché dirà a se stesso che non ha il diritto di dare nomi a oggetti che egli stesso non può definire grazie grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti